A secco di vittorie da 5 giornate il Saronno è di scena sul campo dell'Accademia Pavese. I bianco-celesti vogliono tornare a vincere ma i bianco-rossi di Nordi cercano importanti punti salvezza per mantenere la categoria. Parte meglio il Saronno nel primo tempo. Cross dalla destra, palla prolungata da Pontigia che di fatto diventa un assist per Donofrio. Tiro da parte del numero 3 sul primo palo sul quale attento Boari. Non tante emozioni in realtà nel primo tempo ma sul finale il Saronno sblocca la partita. Spunto di Sardo che va via in velocità e viene esteso in area di rigore da Filadelfia. Dagli 11 metri va Pontigia che non perdona Boari. Palla da una parte e portiere dall'altra per il vantaggio bianco-celeste segnato ancora una volta dall'attaccante classe 91 che esulta insieme ai compagni anche quelli in panchina. Con le immagini nella ripresa il Saronno trova il raddoppio dopo soli 5 minuti di gioco. Fa praticamente tutto Pontigia che tiene vivo il pallone lanciato da Dinoto. Il numero 10 inventa e prova a rientrare sul mancino. Non ha lo spazio per il tiro. Dinoto e Sala allora confezionano il cross sul secondo palo dove c'è l'inserimento proprio di Pontigia che chiude l'azione col gol del 2-0. Rete numero 13 in campionato per il leader massimo dell'FBC. Autentico dominatore della prima ora di gioco e trascinatore della squadra di tricarico. Sembra chiuso anche perché fino a questo momento l'Accademia Pavese è innocua. Lancio dalle retrovie in Escarezzani ma la punta bianco-rossa non può far male col tentativo in pallonetto a lato. È una chance che in realtà scuota i padroni di casa che al diciannovesimo riaprono la partita con questa punizione girata in rete da Zani che è il più lesto di tutti nel trovare la via del gol in area piccola. Esulta la squadra di Nordi con Capitano Filadelfia che dopo la punizione battuta aspetta i compagni come a dare ulteriore carica in vista del finale. Il Saronno dal canto suo prova a chiuderla. Pontigia apre sulla destra per Rudy che entra in area di rigore e restituisce il pallone proprio al numero 10 ma il tiro di Pontigia sul primo palo è respinto in corner da Boari. Il portiere dell'Accademia Pavese poco dopo rischia tantissimo su un rivio maldestro. Verticalizzazione e innescare subito la corsa di Pontigia stavolta sfortunatissimo con la traversa di Renault al pallonetto del numero 10. Partita che resta così aperta anche perché il Saronno attacca ma non trova il terzo gol. Stavolta Pontigia sul secondo palo può sicuramente fare meglio liberato alla perfezione da di noto. E così nei minuti finali l'Accademia pareggia. Palla dentro da parte di Casiroli per Gambazza col numero 3 tamponato da Baldan. Calcio di rigore anche per l'Accademia Pavese con Zani che spiazza Tucci e trova a sua volta la doppietta personale. 2 a 2 il punteggio e nono gol in campionato per l'attaccante classe 95. Ancora di salvezza dell'Accademia Pavese. Mancano pochi minuti al novantesimo. Il Saronno prova l'ultimo disperato tentativo per vincere la partita e ritrovare i tre punti ma il tiro cross da parte di Donofrio dalla sinistra non beffa. Buari il numero 1 dell'Accademia Pavese rinvia l'ultimo pallone sul quale arriva il tribrice fisco del direttore di gara. Tra Accademia Pavese e FBC Saronno finisce 1 a 1.